L'olfatto è notoriamente il senso più sviluppato nel cane. Si può dire che egli veda attraverso il naso con cui appunto raccoglie informazioni sul mondo che lo circonda. Annusare è un'esigenza per il cane, lo appaga, lo stanca. Si stima infatti che 5 minuti di attività di fiuto corrispondano a circa 20 minuti di attività dinamica. Quindi fare attività olfattive è fondamentale perché significa permettere al cane di usare il naso e concentrarsi nel trovare e classificare gli odori. Adesso che le uscite sono limitate e quindi anche le opportunità di annusare ed esplorare l'ambiente esterno, possiamo dare al cane la possibilità di esercitare il fiuto all'interno, ad esempio nascondendo qualche bocconcino in alcuni punti della casa oppure realizzando un tappetino olfattivo. È molto semplice da fare e si possono usare materiali facilmente reperibili in ambiente domestico. Vediamo come! Grazie a tutti! Grazie a tutti!